è luna di notte e sono qua in questo garage con due ragazzi che ho conosciuto l'altro ieri a smontare una pitbike questa cosa mi ha riportato quando avevo 14 anni e me ne stavo sveglio tutta la notte assieme al mio amico per cercare di capire che cosa avessimo in mano ma quello che mi lascia più di stucco è vedere questi ragazzi che lavorano come dei pazzi senza sapere come andrà a finire ma ci credono fino in fondo che con la pitbike può ritornare in vita avete presente quel film dove la famiglia è tutto beh questo è il loro credo immaginate un team una squadra una famiglia chiamala come ti pare di persone che lavorano all'unisono con un unico obiettivo un'unica passione non ci sono mondiali da vincere non ci sono squadre da battere c'è solo l'irrefrenabile bisogno di sfogarsi di esplorare ed è da qui che emerge la vera passione per qualcosa quella cosa che ti fa sentire invincibile e senza sonno che ti fa letteralmente volare sognare in grande e che ti fa riscoprire il tuo vero valore non importa più quanti soldi hai in tasca non importa neanche se sei figlio di qualcuno di importante la passione è una fede la passione è benzina e quando scoppia la scintilla nessuna difficoltà riuscirà mai a spegnerla e 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